Bella guys voglio ricordarvi che se volete supportarmi negozio oggetti supporta un creatore con il codice FORTU accettate da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi qui è Fortemar che parla benvenuti in videos fortnite e oggi ragazzi avete letto bene dal titolo scopriremo come giocare in claw Io devo dire che gioco in claw da quando sono praticamente piccolo gioco videogiochi da quando ho due anni e gioco in claw da quando ho due anni Ho iniziato a giocare in claw ragazzi praticamente in maniera naturale perché dato che le mie mani erano troppo piccole per giocare con i joypad della gamecube ai tempi mi è venuto spontaneo giocare in claw fin da quando avevo due anni Quindi gioco veramente da tantissimo tempo in claw e finalmente ho deciso di portare una guida a riguardo dato che tantissimi me l'avete chiesta Ok sono un po' in ritardo nel portarvela perché di nuovo me lo state chiedendo da due anni però meglio tardi che mai Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanellina ma soprattutto lasciate un like ragazzi E quindi io vi faccio vedere ragazzi com'è la presa Ok ragazzi ora passiamo alla parte un po' più pratica insomma del nostro tutorial Abbiamo il nostro joypad dobbiamo capire come usare ragazzi questa presa claw Partiamo da una posizione standard Diamo come presupposto che noi faremo solo il claw di destra Quindi metteremo il nostro indice in maniera strana in posizione strana solo a destra Dato che io ragazzi non faccio claw di sinistra e destra ma solo di destra Partiamo dalla posizione standard quindi così E spostiamo il nostro indice tra start e quadrato in questo modo ragazzi Così durante il game ovviamente tenendo sempre magari il pollice Sull'analogico e la mano di sinistra con il pollice magari sotto l'analogico o sopra nel caso ci serva Sempre molto saldi perché altrimenti ci può sfuggire il joystick ragazzi specialmente se lo fate all'inizio Quindi porre tra start e quadrato in questo modo come potete vedere sarete abilitati a utilizzare tutti i pulsanti Quando vi serviranno i pulsanti triangolo, quadrato, x e cerchio Un consiglio che vi do specialmente se state giocando a Fortnite è di utilizzare anche l'analogico ragazzi Che è qui dietro attraverso il medio quindi se io sto in questa posizione Ora beh è una posizione naturale io questa non sto così storto quando gioco in game Però come potete vedere quando ho più o meno l'indice nella posizione di cui vi ho parlato tra start O tra options tra lato e quadrato Basta che voi mettiate il medio sul pulsante per sparare in modo da mirare E sparare nonostante appunto il vostro indice si trovi sui tasti È un grande aiuto ragazzi perché appunto questo vi permette di sparare in qualunque situazione Vi dico subito ragazzi che vi farà malissimo cioè questa presa se la fate per le prime volte Vi comincerà a portare un ruolo e lancinante più o meno tutto qui Tutta questa zona è normale ragazzi ci vuole tanta tanta pratica E sinceramente anche un po' di dolore da sopportare Ma dopo un po' dovreste abituarvi Inoltre dovete anche abituarvi ovviamente anche a sparare col medio Ragazzi è tutta una questione di pratica tranquilli che comunque si può fare Lo faccio da anni io praticamente da quando inizio a giocare i videogiochi a due anni lo faccio E si può fare quindi questo è quanto io direi di andare in game E provare una partita in controller cam come non facevamo da un po' Ok ragazzi quindi ci stiamo dirigendo a Gotham Vediamo un po' oggi come ce la capiamo Speriamo di far vedere un po' questo glow Come potete vedere ragazzi posizione di partenza Meglio sul grilletto destro E indice tra options e quadrato Come abbiamo detto all'inizio Mi raccomando ragazzi la teoria prima della pratica Eh la teoria prima della pratica In realtà cioè io ho fatto solo pratica però insomma ci siamo capiti no? Ah shit Oh shit our time is on again man Vai 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 sparami sparami Vai 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 sii Fottetemi la kill eh tanto mica Ah c'è un pompa Ah Sì la cosa così però peggiora drasticamente Ok era un pompa? No Lo so flashato io va bene Un'altra bella pozzata 50 Va così Come potete vedere ragazzi Io con le cure utilizzo sempre l'analogico Per farle partire Cioè il grilletto scusatemi col medio Shit We're going again Ok Via 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 dammi sto coso Tutto un casino della madonna Ok Perfetto Il nulla cosmico che È sempre utile in queste situazioni Non mi pare passasse su Gotham Perché ci sono poche persone Boogie bomb sinceramente no Anzi io non so neanche perché Ce l'ho stai granate a dirla tutta Fatemi vedere un po' Ok ora se il prossimo colpo La smette di farmi un altro 21 Magari Sapete com'è guys Uno prova pure a eliminarsi Del nemico Complimenti man Questa gente c'è sta Oh ma Ah non frero Ando state Regà ando state Ho capito Ho confuso regà Sono molto confuso Madonna Questo sta Questo sta Perché c'è tipo Questo è uno di quei brutti Tryhard Esatto Questo solo così Se lo potevi eliminare Il tizio di prima Quello che ha eliminato Con cui stava fightando Aveva il pompa Epico Leggendario Ho sentito Ho sentito da rumore Regà Ok Faccio il medikit Evito Allora questo non stava a sparare qualcuno Stava a sparare quello Ok Allora Dovrebbe uscire ragazzi Eh sì ma Aspettate Eh sì però Se utilizzo il bat Rang C'è il bat Il bat Cosa Il bat Dio Tre proiettili Devo dire la verità Sempre utile Ok Come potete vedere ragazzi Io per esempio Edito Con triangolo Io sta cosa per ora Non ve l'ho mai fatta vedere Se io devo editare con triangolo Vedete io come premo triangolo Ragazzi E poi ripristino subito Qui C'è capite Bisogna utilizzare l'indice Ragazzi Questo vi rende molto più veloci Anche nell'editing Che sapete essere praticamente Alla base di fortnite Se sai editare velocemente Multi fight Te li porti a casa Ah esatto Un bat Coso che ci serve Sì regà Bello Ok via Ragazzi Io vi ricordo di iscrivervi al canale Se non siete già iscritti E di attivare la campanellina Mi raccomando Ok C'è gente col barret Gente che fa casini Col barret Io Che levo Che levo circa 125 Tipo Che continua ad essere in vita Per Mano e spirito Santo Per mano Dello spirito Santo Scusate Cosa cavolo ho detto Che Dove stai? È tutto tipo Ma non lo vedo Ok ora lo vedo Panic bro Vediamo Però qua L'ho fatta Tutte di smirata E qua Potevano entrare Proiettili Permettetemi E dai E fammene andare Cavolo guys Cavolo Stanno come i cani Stanno come i cani Grazie ciao È stato un piacere Io mi odio Perché sono un coglione Non peraltro Dai Sponda vabbè Bravo 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 Ciao Ok ragazzi Via via Perché io non potrò più andarmene Se sbaglio ora Grazie di avermi aperto Mon frère Gentilissimo Quanto godo Ho solo due rampinate Ricordiamocelo No Ehi Ciao Mi spara Serio Perché Perché non mi hai sparato Ma questo raga Mi poteva trivellare Mi credete Ma con trivellare Intendo proprio Cioè Avete presente D'Ariella Tutti con lo scarro Oggi Uno contro uno Guys Vediamo di portarci a casa Questa partita Da Da 13 kill Proviamoci Che sta fuori safe Ok Questo l'avevo capito Però perché scendere Mon frère Non ti aiuti Dai Perché non ti aiuti proprio Let's fucking go baby So easy Peccato per le 13 kill Non popogucce Però comunque il video Era principalmente Per farvi vedere Come giocare in claw E per farvi poi vedere Una partita Insomma In cui Giocavo in controller Questo è quanto Guys Avete visto pure Un velocissimo E quindi questo Giocare in claw Bella così Quindi ragazzi L'avete visto Questo giocare in claw Ripeto ragazzi Sarà difficile Specialmente se sono Alle prime volte Farà un po' male All'inizio non riuscirete A sparare col medio Ma con un po' di pratica Ragazzi Ci riuscirete Fidatevi Ne vale la pena Perché sarete Molto più veloci Io intanto ragazzi Vi ricordo di utilizzare Sempre codice creatore porto All'interno del negozio Perché se fate un acquisto Utilizzando il mio codice E mi taggate Nelle storie di instagram Ragazzi Io vi riposto Sulle mie storie di instagram Sul mio profilo Che si chiama Forto the gamer E intanto vi ricordo Di iscrivervi al canale Se non siete iscritti E di attivare la potutissima campanellina E ragazzi Noi ci becchiamo alla prossima Ciao Ciao